Sura 68 Nun, per il calamo è ciò che scrivono. Per grazia di Allah, tu non sei un folle, e in verità ci sarà per te infinita ricompensa, e in verità di un'immensa grandezza è il tuo carattere. Vedrai eppure loro vedranno chi di voi ha perso la ragione. Il tuo Signore ben conosce chi si allontana dalla sua via, e ben conosce coloro che seguono la retta via. Non obbedire a coloro che tacciano di menzogna. Vorrebbero che tu fossi accondiscendente, e allora sarebbero accondiscendenti anche loro. Non dare ascolto ad alcun miserabile spergiuro, al diffamatore e seminatore di maldicenza, a quel grande nemico del bene, trasgressore e peccatore, arrogante e persino bastardo. Non dargli ascolto, anche se possiede ricchezze e progenie. Quando i nostri versetti li sono recitati, dice, favore degli antichi. Lo marchieremo sul grugno. Li abbiamo messi alla prova, come abbiamo messo alla prova quelli del giardino, che avevano giurato di fare il raccolto al mattino, senza formulare riserva. Venne un uragano proveniente dal tuo Signore mentre dormivano, e al mattino fu come se il giardino fosse stato falciato. L'indomani si chiamarono gli uni con gli altri di buon mattino. Andate di buon ora alla vostra piantagione, se volete raccogliere. Andarono parlando tra loro a bassa voce. Che oggi non si presenti a voi un povero. Uscirono di buon ora in preda all'avarizia, pur avendo i mezzi per fare l'elemosina. Quando poi videro quel che era avvenuto, dissero, davvero abbiamo sbagliato strada. Ma poi convennero, siamo rovinati. Il più equilibrato tra loro disse, non vi avevo forse avvertito di rendere gloria ad Allah? Dissero, gloria al nostro Signore, in vero siamo stati ingiusti. Si volsero poi gli uni agli altri, biasimandosi a vicenda. Dissero, guai a noi, in vero siamo stati iniqui. È possibile che il nostro Signore ci compensi di questo con qualcosa di migliore. Noi bramiamo il nostro Signore. Questo fu il castigo, ma il castigo dell'altra vita è ancora maggiore, se solo lo sapessero. I devoti avranno presso il loro Signore i giardini della delizia. Tratteremo i sottomessi come criminali? Che cosa vi prende? Come giudicate? Avete forse una scrittura che vi istruisca e in cui troviate quel che desiderate? Ci siamo forse legati a voi con solenni giuramenti che ci impegnino fino al giorno della Ressurrezione a darvi quello che chiederete? Interpellali su chi di loro se ne faccia garante. Oppure, hanno forse degli dei associati? Allora facciano venire i loro associati, se sono sinceri. Il giorno in cui affronteranno gli orrori, saranno chiamati a prosternarsi, ma non potranno farlo. Saranno bassi i loro sguardi e saranno coperti di ignominia. Eppure furono chiamati a prosternarsi quando ancora erano sani e salvi. Lasciami solo con coloro che tacciano di menzogna questo discorso, li condurremo passo passo per vie che non conoscono. Concedo loro una dilazione. In verità il mio piano è infallibile. Forse chiedi loro un compenso che li gravi di un peso insopportabile? Forse possiedono l'invisibile e lo descrivono? Sopporta dunque con pazienza il decreto del tuo Signore e non essere come l'uomo della balena che invocò il colmo dell'angoscia. Se una grazia del tuo Signore non l'avesse toccato, sarebbe stato gettato sulla riva deserta, reietto. Poi il suo Signore lo scelse e ne fece uno dei giusti. Manca poco che i miscredenti ti trapassino con gli sguardi quando sentono il monito. Dicono, davvero è uno posseduto. Ma questo Corano non è che un monito per il creato. Sura 69 L'inevitabile Cos'è l'inevitabile? Chi mai ti dirà che cos'è l'inevitabile? I Samud e gli Had tacciarono di menzogna al cataclisma. Ma i Samud furono sterminati da un grido tremendo. Mentre gli Had furono distrutti da un vento mugghiante, furioso, che Allah scatenò contro i loro per sette notti e otto giorni consecutivi. Allora avresti visto quella gente riversa in terra come tronchi cavi di palma. Ne vedi forse uno sopravvissuto? Anche Faraone, e coloro che lo precedettero, e le città stravolte commisero peccati, disobbedirono al messaggero del loro Signore, ed egli li afferrò con estrema energia. Quando l'acqua dilagò, vi caricammo sull'arca affinché esse diventasse un monito, ricordato da ogni orecchio che ricorda. Quando sarà soffiato nel corno la prima volta, e la terra e le montagne saranno sollevate e polverizzate in un sol colpo, in quel giorno avverrà l'evento, e si spaccherà il cielo, così fragile in quel giorno. Staranno gli angeli ai suoi orizzonti, e in quel giorno otto di loro porteranno il trono del tuo Signore. Sfilerete davanti ad Allah in quel giorno, e niente di quel che celate potrà essere nascosto. Chi avrà ricevuto il libro nella mano destra dirà, Prendete, leggete il mio libro. In vero sapevo che avrei avuto il mio rendiconto. Egli avrà piacevole esistenza in un giardino elevato, i cui frutti saranno a portata di mano. Mangiate, e bevete in pace. È il premio per quel che avete fatto nei giorni passati. Chi invece avrà ricevuto il suo libro nella mano sinistra dirà, Ahimè, se solo non mi fosse stato consegnato il mio libro, e non avessi conosciuto il mio rendiconto. Ahimè, quanto vorrei che essa fosse stata definitiva. Quel che possedevo non mi ha giovato affatto. Ho perso il mio potere. Diranno, afferratelo e mettetelo nei ceppi, quindi si è precipitato nella fornace, e poi legatelo con una catena di 70 cubiti. Non credeva in Allah, il Supremo, e non esortava a nutrire il povero. Oggi non avrà qui nessun amico sincero, né altro cibo che sanie, che solo i colpevoli mangeranno. Lo giuro per quel che vedete, e per quel che non vedete. Questa è in verità la parola di un messaggero nobilissimo. Non è la parola di un poeta. Credetelo per quanto poco crediate. E neanche la parola di un indovino, per quanto poco riflettiate. È una rivelazione venuta dal Signore dei Mondi. Se Muhammad ci avesse emendacemente attribuito qualche discorso, lo avremmo certo afferrato per la mano destra, e quindi gli avremmo reciso la orta, e nessuno di voi avrebbe potuto impedircelo. In verità questo è un monito per i timorati di Allah. Sappiamo che tra voi c'è chi lo tratta da bugiardo. In verità ciò sarà un rimpianto per i miscredenti. Quindi, questa è l'assoluta certezza. Allora, glorifica il nome del tuo Signore, il Supremo. Sura settantesima Un tale ha chiesto un castigo immediato. Per i miscredenti, nessuno potrà impedirlo, poiché proviene da Allah, il Signore delle vie dell'ascesa. Gli angeli e lo Spirito ascendono a lui in un giorno la cui durata è di 50.000 anni. Pazienta, dunque, di bella pazienza. Essi lo considerano come fosse lontano, mentre noi lo vediamo vicino. Il giorno in cui il cielo sarà come metallo fuso e le montagne come fiocchi di lana, nessun amico sollecito chiederà dell'amico, anche se sarà dato loro di vedersi. Il malvagio vorrebbe riscattarsi dal castigo di quel giorno, offrendo i suoi figli, la sua sposa e suo fratello, e la sua gente che lo ospitava, e tutto quel che è sulla terra, ogni cosa che potesse salvarlo. Niente lo salverà. Sarà una fiammata a strappargli brutalmente la pelle del cranio. Essa chiamerà chi avrà volto le spalle e se ne sarà andato, chi accumulava ed esaurizzava. In verità l'uomo è stato creato instabile, prostrato quando lo coglie sventura, arrogante nel benessere. Eccetto coloro che eseguono l'orazione e sono costanti nella loro orazione, e sui cui beni c'è un riconosciuto diritto per il mendicante e diseredato. Coloro che attestano la verità del giorno del giudizio, e coloro che temono il castigo del loro signore, che in verità il castigo del loro signore non è cosa da cui si possa trovare riparo, e che si mantengono casti, eccetto che con le loro spose o con le schiave che possiedono. E in questo non sono i biasimevoli, mentre coloro che desiderano altro sono i trasgressori. Coloro che rispettano ciò che è loro stato affidato ai loro impegni, che rendono testimonianza sincera e hanno cura della loro orazione. Costoro saranno onorati nei giardini. Cos'hanno mai da affrettarsi verso di te coloro che non credono, venendo in gruppi da destra e da sinistra? Ciascuno di loro desidera che lo si lascia entrare nel giardino della delizia? No, mai! In vero li creammo di quello che già sanno. Lo giuro per il signore degli orienti e degli occidenti. In verità abbiamo il potere di sostituirli con altri migliori di loro, e nessuno potrebbe precederci. Lascia dunque che disputino e giochino finché non incontreranno il giorno che è stato loro promesso. Il giorno in cui usciranno dalle tombe in fretta, come se corressero, verso pietre drizzate. Con gli sguardi umili coperti di vergogna. Questo è il giorno che è stato loro promesso. Sura 71 In verità inviamo Noè al suo popolo. Avverti il tuo popolo prima che giunga loro un doloroso castigo. Disse, O popolo mio, in verità io sono per voi un ammonitore evidente. Adorate Allah, temetelo e obbeditemi, affinché perdoni una parte dei vostri peccati e vi conceda dilazione fino a un termine stabilito. Ma quando giungerà il termine di Allah, non potrà essere rimandato, se solo lo sapeste. Disse, Signore, ho chiamato il mio popolo giorno e notte, ma il mio richiamo ha solo accresciuto la loro repulsione. Ogni volta che li chiamavo affinché tu li perdonassi, si turavano le orecchie con le dita e si avvolgevano nelle loro vesti, per vicaci e tronfi di superbia. Poi li ho chiamati ad alta voce. Li ho arringati e ho parlato loro in segreto dicendo Implorate il perdono del vostro Signore, Egli è colui che molto perdona, affinché vi invida al cielo una pioggia abbondante. Accresca i vostri beni e i vostri figli. e vi conceda giardini e ruscelli. Perché non confidate nella magnanimità di Allah, quando è Lui che vi ha creati in fasi successive? Non avete considerato come Allah ha creato sette cieli sovrapposti e della luna ha fatto una luce e del sole un luminare? È Allah che vi ha fatto sorgere dalla terra come piante. Poi vi rimanderà ad essa e vi farà risorgere. Allah ha fatto della terra un tappeto per voi, affinché possiate viaggiare su spaziose vie. Disse Noè, Signore, mi hanno disobbedito seguendo coloro i cui beni e figli non fanno che aumentarne la rovina. Hanno tramato un'enorme trama e hanno detto Non abbandonate i vostri dèi. Non abbandonate né Wad, né Sua, né Yahut, né Yahuk, né Nasr. Essi ne hanno attraviati molti. Signore, non accrescere gli ingiusti altro che nella perdizione. A causa dei loro peccati sono stati affogati e poi introdotti nel fuoco e non trovarono nessun soccorritore all'infuori di Allah. Pregò Noè, Signore, non lasciare sulla terra alcun abitante che sia miscredente. Se li risparmierai, travieranno i tuoi servi e non genereranno altro che perversi ingrati. Signore, perdona a me, ai miei genitori, a chi entra nella mia casa come credente, ai credenti e alle credenti. Non accrescere gli ingiusti, altro che nella rovina. Sura 72 D. Mi è stato rivelato che un gruppo di demoni ascoltarono e dissero In vero, abbiamo ascoltato una lettura meravigliosa che conduce sulla retta via. Abbiamo creduto in essa e non associeremo nessuno al nostro Signore. In verità, Egli, esaltata sia la Sua Maestà, non si è preso né compagna né figlio. Uno stolto dei nostri diceva menzogne contro Allah. Pensavamo che né gli uomini né i demoni potessero proferire menzogne contro Allah. In vero, c'erano degli uomini che si rifugiavano appresso i demoni e questo non fece che aumentare la loro follia. Anch'essi pensavano, come lo pensavate voi, che Allah non avrebbe resuscitato nessuno. In vero, abbiamo sfiorato il cielo, ma lo abbiamo trovato munito di temibili guardiani e di bolidi fiammeggianti. Ci sedevamo un tempo in sedi appropriate per ascoltare, ma ora chi vuole oridiare trova un bolide fiammeggiante in agguato. Noi non sappiamo se sia stata decretata una sventura per coloro che stanno sulla terra o se il loro Signore li voglia guidare al bene. Tra noi ci sono dei giusti e altri che non lo sono. Siamo in diverse sette. Pensavamo che mai avremmo potuto annullare la potenza di Allah sulla terra e che non avremmo mai potuto sfuggire a lui. Quando udimmo la guida credemmo e chi crede nel suo Signore non teme danno né offesa. Ora tra noi ci sono i musulmani e i ribelli. I musulmani sono quelli che hanno scelto la retta via. I ribelli invece saranno combustibile dell'inferno. Se si manterranno sulla retta via noi li disseteremo di acqua abbondante per metterli con la alla prova. Allah condurrà ad un castigo incessantemente più severo che avrà trascurato il monito del suo Signore. Le moschee appartengono ad Allah non invocate nessuno insieme con lui. Quando il servo di Allah si levò per invocarlo poco mancò che lo stringessero fino a soffocarlo. Di non invoco altri che il mio Signore e non gli associo alcunché. Di in verità non posso né nuocervi né giovarvi. Di in verità nessuno potrà proteggermi da Allah e mai troverò rifugio all'infuori di lui se non comunicando in nome di Allah i Suoi messaggi. Coloro che disobbediranno ad Allah e al Suo messaggero avranno il fuoco dell'inferno e vi rimarranno in perpetuo per sempre. Quando poi vedranno quello che è stato promesso loro allora sapranno che avrà avuto l'alleato più debole e chi sarà stato numericamente esiguo. Di io non so se quello che vi è stato promesso è imminente o se il mio Signore vorrà ritardarlo. Egli è colui che conosce l'invisibile e non lo mostra nessuno. se non ha un messaggero di cui si compiace che fa precedere e seguire da una guardia angelica per sapere se i profeti hanno trasmesso i messaggi del loro Signore. Gli è ben noto tutto ciò che li concerne e tiene il conto di tutte le cose. Sura settantatresima O tu l'avvolto nelle tue vesti vegli una parte della notte la metà oppure meno oppure poco più e recita il Corano lentamente distintamente. Faremo scendere su di te parole gravi In verità la preghiera della notte è la più efficace e la più propizia. Durante il giorno hai occupazioni impegnative. Menziona il nome del tuo Signore e consacrati totalmente a Lui. Il Signore dell'Oriente e dell'Occidente non c'è Dio all'infuori di Lui prendi Lui come protettore. Sopporta con pazienza quello che dicono e allontanati dignitosamente. Lasciami con coloro che tacciano di menzogna che vivono nella giatezza e concedi loro un po' di tempo. In vero presso di noi ci sono catene e la fornace e cibo che soffoca e doloroso castigo nel giorno in cui la terra e le montagne tremeranno e in cui le montagne diventeranno come dune di sabbia fina. In verità inviammo a voi un messaggero affinché testimoniasse contro di voi così come inviammo un messaggero a Faraone. Ma Faraone disobbedì al messaggero. Lo afferrammo allora con stretta severa. Come vi difenderete voi che già non credeste nel giorno che trasformerà i bambini in vecchi canuti nel giorno in cui si spaccherà il cielo la promessa di Allah si realizzerà. In verità questo è un monito. Chi vuole intraprenda dunque la via che conduce il suo Signore. In verità il tuo Signore sa che stai ritto in preghiera per quasi due terzi della notte o la metà o un terzo e che lo stesso fanno una parte di coloro che sono con te. Allah ha stabilito la notte e giorno. Egli già sapeva che non avreste potuto passare tutta la notte in preghiera ed è stato indulgente verso di voi. Recitate dunque del Corano quello che vi sarà agevole. Egli già sapeva che ci sarebbero stati tra voi malati ed altri che avrebbero viaggiato sulla terra in cerca della grazia di Allah ed altri ancora che avrebbero lottato per la sua causa. Recitatene dunque quello che vi sarà agevole. Assolvete l'orazione e versate la decima e fate ad Allah un prestito bello. Tutto il bene che avrete compiuto lo ritroverete presso Allah migliore e maggiore ricompensa. Implorate il perdono di Allah in verità Allah è perdonatore misericordioso. Sura settantaquattresima O tu che sei avvolto nel mantello alzati e ammonisci e il tuo Signore magnifica e le tue vesti purifica. Allontanati dall'abiezione. Non dar nulla sperando di ricevere di più ma sopporta con pazienza per il tuo Signore. Quando sarà soffiato nel corno quello sarà un giorno difficile niente affatto facile per i miscredenti. Lasciami solo con colui che ho creato cui ho concesso abbondanza di beni e figli al suo fianco al quale ho facilitato ogni cosa e che ancora desidera che gli dia di più. No in vero è stato refrattario i nostri segni lo costringerò a una dura salita. Ha ponderato e l'ha definito. Perisca per come l'ha definito. si perisca per come l'ha definito. Quindi ha guardato si è accigliato e rabbuiato. Ha volto le spalle si è fatto altero e ha detto questo non è che magia appresa non è altro che un discorso di un uomo. Lo getterò nel calore che brucia. Chi mai ti dirà cos'è il calore che brucia? Nulla risparmia non lascia nulla carbonizza gli uomini. Gli stanno a guardia diciannove angeli. Non ponemmo che angeli a guardia del fuoco fissando il loro numero solo per tentare i miscredenti affinché credessero con fermezza quelli cui è stato dato il libro e aumentasse la fede dei credenti e non dubitassero coloro cui è stata data la scrittura e i credenti e affinché coloro che hanno un morbo nel cuore e miscredenti dicessero cosa vuol significare Allah con questa metafora? È così che Allah travia chi vuole e guida chi vuole. Non conosce le truppe del tuo Signore altri che lui. Questo non è altro che un monito per gli uomini. No, per la luna, per la notte quando volge al termine e per l'aurora quando si mostra il calore è davvero uno dei segni più grandi, un monito per gli uomini, per chi di voi vuole avanzare nella fede o indietreggiare. Ogni anima è impegno di quello che ha compiuto eccetto i compagni della destra. Saranno nei giardini e si interpelleranno a vicenda a proposito dei colpevoli. Cosa mai vi ha condotti al calore che brucia? Risponderanno non eravamo tra coloro che eseguivano l'orazione né nutrivamo il povero e chiacchieravamo vanamente con i chiacchieroni e tacciavamo di menzogne al giorno del giudizio finché non ci pervenne la certezza. Non gioverà loro l'intercessione di intercessori ma perché mai si scostano dal monito? Sembravano nagri spaventati che fuggono davanti a un leone. Ciascuno di loro vorrebbe che gli fossero dati fogli dispiegati. No non hanno invece alcun timore dell'altra vita. No in verità questo è un monito. Se ne ricordi dunque chi vuole ma non se ne ricorderanno altrimenti che se alla vuole. Egli è il più degno di essere temuto è il detentore del perdono. Sura settantacinquesima Lo giuro per il giorno della ressurrezione. Lo giuro per l'anima in preda al rimorso. Crede forse l'uomo che mai riuniremo le sue ossa? Invece sì possiamo persino riordinare le sue falangi. Ma l'uomo preferisce piuttosto il libertinaggio. Chiede quando verrà il giorno della ressurrezione? Quando sarà abbagliato lo sguardo ed eclissata la luna e riuniti il sole e la luna? In quel giorno l'uomo dirà dove fuggire? No non avrà rifugio alcuno. In quel giorno il ritorno sarà presso il tuo signore. In quel giorno l'uomo sarà edotto di quel che avrà commesso. Sì l'uomo testimonierà contro se stesso pur avanzando le sue scuse. Non agitare la tua lingua con esso per affrettarti in vero aspetta a noi la sua riunione e la sua recitazione. Quando lo recitiamo ascolta attento la recitazione poi spetterà a noi la sua spiegazione. No voi amate l'effimero della vita terrena e trascurate l'altra vita. In quel giorno ci saranno dei volti splendenti che guarderanno il loro signore. E in quel giorno ci saranno volti rabbuiati al pensiero di subire un castigo terribile. No quando l'anima sarà giunta alle clavicole sarà gridato chi è esorcista ed egli concluderà che è prossima la dipartita e le gambe si irrigidiranno. In quel giorno il ritorno sarà verso il tuo signore. Ma egli non credette e non eseguì l'orazione da ciò invece di menzogne e voltò le spalle ritornando poi verso la sua gente camminando con alte rigia. Guai a te guai e ancora guai a te guai crede forse l'uomo che sarà lasciato libero già non fu che una goccia di sperma eiaculata quindi un'aderenza poi Allah lo creò e gli diede forma armoniosa poi ne trasse una coppia il maschio e la femmina colui che ha fatto tutto questo non sarebbe dunque capace di far risorgere i morti Sura 76 Non è forse trascorso un lasso di tempo in cui l'uomo non sia stato una creatura degna di menzione in vero creammo l'uomo per metterlo alla prova da una goccia di sperma eterogenea e abbiamo fatto sì che sentisse e vedesse e gli abbiamo indicato la retta via sia esso riconoscente o ingrato in verità abbiamo preparato per i miscredenti catene giochi e la fiamma in verità i giusti berranno da una coppa in cui un miscuglio di acqua e di kafur attinta da una fonte da cui berranno i servi di Allah che la faranno fluire con abbondanza coloro che assolvono i loro voti e temono il giorno in cui il male si propagherà ovunque loro che nonostante il loro bisogno nutrono il povero l'orfano e il prigioniero interiormente affermano è solo per il volto di Allah che vi nutriamo non ci aspettiamo da voi né ricompensa né gratitudine in vero noi temiamo un giorno terribile catastrofico da parte del nostro signore Allah li preserverà dal male di quel giorno e verserà su di loro splendore e gioia li compenserà del loro perseverare con il giardino e la seta adagiati su alti divani non dovranno subire né il sole né il freddo pungente le sue ombre li copriranno e i suoi frutti penderanno portata di mano verranno serviti da un vassoio d'argento e coppe di cristallo di cristalle d'argento convenientemente riempite e berranno colà da una coppa contenente una mistura di zenzero attinta da una fonte di quel luogo chiamata salsa bill saranno serviti da fanciulli di eterna giovinezza vedendoli ti sembreranno perle sparse quando lo vedrai vedrai delizia e un vasto regno indosseranno abiti verdi di seta finissime broccato saranno ornati con bracciali d'argento e il loro signore darà loro una bevanda purissima in verità questo vi sarà concesso ricompensa e il vostro sforzo sarà riconosciuto in verità siamo stati noi a far scendere gradualmente il corano su di te sii paziente nell'attesa del decreto del tuo signore e non obbedire al peccatore e all'ingrato dei loro menziona il nome del tuo signore al mattino e alla sera e durante la notte prosternati a lui e glorificalo a lungo nella notte coloro che amano l'effimero trascurano un giorno grave siamo stati noi a crearli e a consolidare le loro giunture se volessimo li sostituiremmo con altri loro simili in verità questo è un monito chi vuole intraprenda dunque la via che conduce al suo signore ma voi lo vorrete solo se Allah lo vuole Allah è sapiente e saggio introduce chi vuole nella sua misericordia mentre per gli ingiusti ha preparato un doloroso castigo Sura settantasettesima per le inviate in successione per quelle che impetuose tempestano per quelle che si diffondono ampie per quelle che separano con esattezza e per quelle che lanciano un monito a guisa di scusa o di avvertimento in verità quello che vi è stato promesso avverrà quando le stelle perderanno la luce e si fenderà il cielo e le montagne saranno disperse e sarà indicato il momento ai messaggeri a quale giorno saranno rinviati al giorno della decisione chi mai ti dirà cos'è il giorno della decisione guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna già non facemmo perire gli antichi e non li facemmo seguire dagli ultimi così trattiamo i colpevoli guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna non vi creammo da un liquido vile che depositammo in un sicuro ricettacolo per un tempo stabilito siamo noi che lo stabiliamo siamo i migliori nello stabilire tutte le cose guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna non abbiamo fatto della terra un luogo di riunione dei vivi e dei morti non vi ponemmo alte montagne non vi demmo da bere un acqua dolce guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna sarà detemi scredenti andate verso quel che tacciavate di menzogna andate verso un'ombra di tre colonne che non ombreggia e non ripara dalla vampa infernale che proietta scintille grandi come tronchi che sembrano in vero lastre di rame guai in quel giorno a quelli che tacciano di menzogna sarà il giorno in cui non potranno parlare e non sarà dato loro il permesso di scusarsi guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna è il giorno della decisione in cui riuniremo voi gli antichi se possedete uno stratagemma usatelo dunque contro di me guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna i timorati di Allah saranno tra ombre e sorgenti e frutti che brameranno sarà detto loro mangiate e bevete in pace compenso per quello che avete fatto compensiamo così coloro che compiono il bene guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna sarà detto loro mangiate e godete un poco voi che siete criminali guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna quando si dice loro inchinatevi non si inchinano guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna a quale discorso mai crederanno dopo di ciò sora settantottesima su cosa si interrogano a vicenda sul grande annuncio a proposito del quale sono discordi no presto verranno e sapranno ancora no presto sapranno non facciamo della terra una culla delle montagne pioli vi abbiamo creato in coppie e facciamo del vostro sonno un riposo della notte un indumento e del giorno un mezzo per le incombenze della vita costruimmo sopra di voi sette solidi cieli e vi ponemo una lampada ardente facciamo scendere dalle nuvole un'acqua abbondante per suscitare grano e vegetazione e giardini lussureggianti in vero il giorno della decisione è stabilito il giorno in cui verrà soffiato nel corno accorrerete a frotte sarà spalancato il cielo e sarà tutto porte e le montagne saranno messe in marcia diventando un miraggio in vero l'inferno in agguato asilo per i ribelli vi dimoreranno per intere generazioni senza gustare né freschezza né bevanda eccetto acqua bollente o liquido infetto giusto compenso poiché non si aspettavano il rendiconto sfrontatamente tacciavano di menzogne i nostri segni mentre di ogni cosa abbiamo tenuto conto per iscritto e allora gustate il tormento a voi non accresceremo null'altro che il castigo in verità avranno successo i timorati giardini e vigne fanciulle dei segni pieni e coetanee calici traboccanti non udranno colà né vanità né menzogna compenso del tuo signore dono adeguato da parte del signore dei cieli della terra e di ciò che vi è fra mezzo del compassionevole cui non oseranno rivolgere la parola il giorno in cui lo spirito e gli angeli si aggeranno in schiere nessuno oserà parlare eccetto colui cui il compassionevole l'avrà permesso e che dirà cose vere quel giorno verrà ineluttabilmente si rifugi quindi presso il suo signore chi vuole in verità vi abbiamo avvertito di un castigo imminente il giorno in cui l'uomo vedrà quello che le sue mani avranno preparato e dirà il miscredente ahimè fossi io polvere sora settantanovesima per gli strappanti violenti per i correnti veloci per i nuotanti leggeri per i sopravanzanti con foga per sistemare ogni cosa il giorno in cui risuonerà il risuonante al quale seguirà il successivo in quel giorno tremeranno i cuori e saranno abbassati di sguardi dicono saremo ricondotti sulla terra quando già saremo ossa marcite dicono sarebbe questo un disastroso ritorno ci sarà un solo grido ed eccoli risvegliati sulla superficie della terra non ti giunse o muhammad la storia di mosè quando lo chiamò il suo signore nella valle santa di tua vada faraone in vero è divenuto un ribelle e digli sei disposto a purificarti sicché io ti guidi verso il tuo signore e tu lo tema dimostrò poi il segno più grande ma quello tacciò di menzogna e disobbedì poi volse le spalle e si distolse convocò i notabili e proclamò sono io il vostro signore l'altissimo lo colpì alla con il castigo nell'altra vita e in questa in ciò vi è motivo di riflessione per chi è timorato di alla sareste voi più difficili da creare o il cielo che egli ha edificato ne ha innalzato la volta e le ha dato perfetta armonia ha fatto oscura la sua notte e ha fatto brillare il chiarore del suo giorno dopo di ciò ha esteso la terra ne ha tratto l'acqua e i pascoli e le montagne le ancorate sì che ne godeste voi e il vostro bestiame poi quando verrà il grande cataclisma il giorno in cui l'uomo ricorderà in cosa si è impegnato e apparirà la fornace per chi potrà vederla colui che si sarà ribellato e avrà preferito la vita terrena avrà in vero la fornace per rifugio e colui che avrà paventato di comparire davanti al suo signore e avrà preservato l'animo suo dalle passioni avrà in vero il giardino per rifugio ti interpellano a che scienza ne hai per informarli al tuo signore il termine tu non sei che un ammonitore per coloro che la paventano il giorno in cui la vedranno sarà come se fossero rimasti sulla terra una sera o un mattino sera ottantesima si accigliò e voltò le spalle quando il cieco venne da lui cosa ne puoi sapere forse voleva purificarsi o riflettere affinché il monito gli fosse utile quanto a colui che invece pensa di bastare a se stesso tu ne hai maggiore premura cosa ti importa se non si purifica quanto a colui che ti viene incontro pieno di zelo essendo timorato di Allah di lui non ti occupi affatto in verità questo è un monito se ne ricordi dunque chi vuole è contenuto in fogli onorati sublimi purissimi tra le mani di scribi nobili obbedienti perisca l'uomo quell'ingrato da cosa l'ha creato Allah da una goccia di sperma lo ha creato e ha stabilito il suo destino quindi gli ha reso facile la via quindi l'ha fatto morire e giacere nella tomba infine lo resusciterà quando lo vorrà no non ha adempiuto a quello che Allah gli ha comandato consideri l'uomo il suo cibo siamo noi che versiamo l'acqua in abbondanza poi spacchiamo la terra in profondità e vi facciamo germinare cereali vitigni e foraggi olive e palmetti lussureggianti giardini frutti e pascoli di cui godete voi e il vostro bestiame ma quando verrà il fragore il giorno in cui l'uomo fuggirà da suo fratello da sua madre da suo padre dalla sua compagna e dai suoi figli poiché ognuno di loro in quel giorno avrà da pensare a se stesso ci saranno in quel giorno volti radiosi sorridenti e lieti e ci saranno in quel giorno anche volti terrei coperti di tenebre sono i miscredenti i peccatori sura ottantunesima quando sarà oscurato il sole e spente le stelle e messe in marcia le montagne e neglette le cammelle gravide di dieci mesi e radunate le belve e ribollenti i mari e divise in gruppi le anime e quando verrà chiesto alla neonata sepolta viva per quale colpa sia stata uccisa e quando saranno dispiegati i fogli e scorticato il cielo e attizzata la fornace e avvicinato il paradiso ogni anima conoscerà quel che avrà prodotto giuro per i pianeti che passano e che si occultano per la notte che si estende per l'aurora che esala il suo alito questa è la parola di un messaggero nobilissimo potente ed eccellente presso il signore del trono colà obbedito e fedele il vostro compagno non è un folle in verità l'ha visto sull'orizzonte luminoso non è avaro dell'invisibile questa non è parola di demone lapidato dove andate dunque questo non è che un monito rivolto al creato per chi di voi voglia seguire la retta via ma voi lo vorrete solo se lo vorrà Allah il signore dei mondi sura ottantaduesima quando il cielo si squarcerà e saranno dispersi gli astri e confonderanno le loro acque i mari e saranno sconvolti sepolcri ogni anima conoscerà quel che avrà fatto e quel che avrà trascurato o uomo cosa mai ti ha ingannato circa il tuo nobile signore che ti ha creato plasmato e ti ha dato armonia e che ti ha formato nel modo che ha voluto no voi tacciate di menzogno al giudizio nonostante veglino su di voi dei custodi nobili scribi ben consci di quello che fate in verità i giusti saranno nella delizia e in verità i peccatori nella fornace in cui precipiteranno nel giorno del giudizio senza potervi sfuggire chi mai ti farà comprendere cos'è il giorno del giudizio e ancora chi mai ti farà comprendere cos'è il giorno del giudizio il giorno in cui nessun'anima potrà giovare ad un'altra anima in alcunché in quel giorno tutto il potere apparterrà da Allah sur 83 guai affroddatori che quando comprano esigono colma la misura ma quando sono loro a misurare o a pesare truffano non pensano che saranno resuscitati in un giorno terribile il giorno in cui le genti saranno ritte davanti al signore dei mondi no in verità il registro dei peccatori è nella segreta e chi mai ti farà comprendere cos'è la segreta è uno scritto vergato guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna che tacciano di menzogna il giorno del giudizio non lo taccia di menzogna a altri che il peccatore inveterato che quando gli sono recitati i nostri versetti dice pavole degli antichi niente affatto è piuttosto quello che fanno che copre i loro cuori niente affatto in verità in quel giorno un velo li escluderà dal vedere il loro signore e poi cadranno nella fornace sarà detto loro ecco quello che tacciavate di menzogna niente affatto il registro dei caritatevoli sarà nelle altezze e chi mai ti farà comprendere cosa sono le altezze è uno scritto vergato i ravvicinati ne renderanno testimonianza i giusti saranno nella delizia appoggiati su alti divani guarderanno sui loro volti vedrai il riflesso della delizia verranno un ettare puro suggellato con suggello di muschio che vi aspirino coloro che ne sono degni un ettare mescolato con tasnim fonte di cui verranno i ravvicinati in veri malvagi schernivano i credenti quando passavano nei loro pressi si davano occhiate ritornando dalla loro gente si burlavano di loro e quando li vedevano dicevano davvero sono forviati certo non hanno avuto l'incarico di vegliare su di loro oggi invece sono i credenti a ridere dei miscredenti appoggiati su alti divani guarderanno i miscredenti non sono forse compensati per quello che hanno fatto non sora 84 quando si fenderà il cielo e obbedirà al suo signore e quel che deve fare farà quando la terra sarà spianata rigetterà quello che è in seno e si svuoterà e obbedirà al suo signore e quel che deve fare farà o uomo che anelia il tuo signore tu lo incontrerai quanto colui che riceverà il suo libro nella mano destra gli verrà chiesto conto con indulgenza e lietamente ritornerà ai suoi quanto colui che riceverà il suo libro da dietro le spalle invocherà l'annientamento e brucerà nella fiamma si rallegrava in mezzo ai suoi e pensava che mai sarebbe ritornato ad Allah invece sì in verità il suo signore lo osservava lo giuro per il crepuscolo per la notte e per quello che s'avvolge per la luna quando si fa piena in vero passerete attraverso fasi successive cosa hanno dunque che non credono e non si prosternano quando si recita loro il corano i miscredenti invece tacciano di menzogna ma Allah ben conosce quel che celano annuncia loro un doloroso castigo eccetto che per coloro che credono e compiono il bene essi avranno ricompensa inesauribile suro 85 per il cielo dalle costellazioni per il giorno promesso per il testimone e la sua testimonianza si è maledetta la gente del fossato dal fuoco incessantemente attizzato quando se ne stavano seduti accanto testimoni di quel che facevano i credenti e non li tormentavano che per aver creduto in Allah il potente il degno di lode colui al quale appartiene la sovranità dei cieli e della terra Allah è testimone di ogni cosa in verità coloro che perseguitano i credenti e le credenti e poi non se ne pentono avranno il castigo dell'inferno e il castigo dell'incendio in verità coloro che credono e compiono il bene avranno i giardini dove scorrono i ruscelli questo è il grande successo la risposta del tuo signore è severa in vero egli è colui che inizia e reitera egli è il perdonatore l'amorevole il signore del trono glorioso colui che fa tutto ciò che vuole non ti è giunta la storia delle armate di faraone e dei samud i miscredenti continuano invece a tacciare di menzogna nonostante che Allah sia dietro di loro e li circondi questo è invece un corano glorioso impresso su di una tavola protetta sura 86 per il cielo e per l'astro notturno e chi mai ti dirà cos'è l'astro notturno è la fulgida stella non c'è anima alcuna che non abbia su di sé un angelo guardiano consideri dunque l'uomo da che cosa fu creato da un liquido eiaculato che esce di tra i lombi e le costole Allah è certo capace di ricondurlo nel giorno in cui i segreti saranno svelati e l'uomo non avrà più né forza né ausilio per il cielo che ritorna incessantemente e per la terra quando si fende in verità questa è parola decisiva per nulla frivola in vero tramano insidie e io tesso la mia strategia concedi una dilazione miscredenti da loro un po' di tempo Sura 87 Glorifica il nome del tuo Signore l'Altissimo colui che ha creato e dato forma armoniosa colui che ha decretato e guidato colui che fa germinare i pascoli e ne fa poi fieno scuro ti faremo recitare il Corano e non dimenticherai se non ciò che Allah vuole egli conosce il palese e l'occulto ti faciliteremo la via più facile ricorda che il ricordo è utile se ne ricorderà chi teme Allah e solo il malvagio se ne allontanerà brucerà nel fuoco più grande in cui non morrà e non vivrà avrà successo chi si sarà purificato e avrà ricordato il nome di Allah e assolto all'orazione ma voi preferite la vita terrena mentre l'altra è migliore e più duratura in verità ciò è nei fogli antichi i fogli di Abramo e di Mosè ti è giunta notizia dell'avvolgente ci saranno in quel giorno volti umiliati dispossati e afflitti che bruceranno nel fuoco ardente e saranno abbeverati da una fonte bollente per essi non ci sarà altro cibo che il Dari che non nutre e non placa la fame ci saranno in quel giorno volti lieti soddisfatti delle loro opere in un giardino elevato in cui non sodono discorsi vani colà via una fonte che scorre colà alti divani e coppe poste a portata di mano e cuscini assestati e tappeti distesi non riflettono sui cammelli e su come sono stati creati sul cielo e come è stato elevato sulle montagne e come sono state infisse sulla terra e come è stata distesa ammonisci dunque che tu altro non sei che un ammonitore e non hai autorità alcuna su di loro quanto a chi volge le spalle e non crede Allah lo castigherà con il castigo più grande in verità a noi ritorneranno e allora spetterà a noi e dar loro conto delle loro azioni a noi Grazie a tutti